Dal 28 giugno il comitato tecnico scientifico ha stabilito che possiamo dire addio alla mascherina negli spazi aperti, fermo restando la necessità di indossarla quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Di fatto in città non sembra poi cambiato molto e tra disinformazione e timore non molti hanno iniziato a liberarsi di questo dispositivo. Quando non c'è nessuno la tolgo perché fa caldo e pizzica, però quando c'è gente usiamola non si sa mai, non siamo ancora fuori secondo me. Paura assolutamente no, questo vaccino domani ne fa un altro per cui si sta di molto meglio senza altro. Sono ancora impauriti, alcune persone sono ancora impaurite, solo poche persone che stanno senza mascherina come tu puoi vedere. Bisogna stare molto attenti, comunque vedere quando non c'è assemblamento, ma perlomeno un ritorno alla normalità. Mascherina sì, mascherina no ancora. Mascherina no. Però lei non se l'hai tolta del tutto. Perché sono entrata in un negozio, ma all'aperto me la levo, guarda. Causela. Sì. Tu sela anche degli altri. Sì, sì. Timore non puoi timolare niente. No, timore no, però insomma. Rispetto degli altri. Causela. Perché sa paura. E non ci si fida, le persone non capiscono il pericolo. Anche all'esterno quindi avete paura. Sì, sì, sì. Anzi, proprio lì ci vengono vicini. Siccome siamo anziani si può vedere se si dura qualcosa di più. Lei ha sempre un po' di timore? Sì, molto. Perché sono pessimista per natura. Mia nonna mi ha insegnato, meglio aver paura che buscarne. Non abbiamo nessuna paura. E meno male che hanno detto di non mettere più, guarda. Missimo, veramente. Sì, si sta veramente bene se ne aveva proprio bisogno. Sì, si sta meglio con questo caldo, va bene in questa maniera. Ma paura no. Però bisogna essere cauti nel rispetto nostro e degli altri, penso che sia fondamentale. Quindi continua a tenerla? Sì. Diciamo, se non c'è bisogno proprio doversi essere in un posto dove c'è poca gente, posso anche toglierla, però preferisco anche per il centro. quando c'è gente a tenerla. Si sta molto meglio, soprattutto noi femminucce, ci si può un po' colorare il viso quando eravamo così mascherate. Quindi a questo punto ci possiamo scoprire. Eh, ma io la porto, guardi. Ha sempre un po' di timore? Oh, molta. Senza mascherina si sta meglio? Si può iniziare a mettere rossetti? Sì, io la porto sempre, stamani no. 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 Grazie a tutti.